Ebbene, la bravissima Simona Qualaella è la nuova campionessa di tutto il continente europeo, quindi d'Europa, negli 800 metri, stile libero. Al Torcross International Swimming Center di Glasgow, in Regno Unito, la ragazza che ha solo i 19 anni di età e maggiorenne si è imposta con un tempo di 8.16.35, andando a stabilire un vero e proprio nuovo primato a livello italiano. Alle sue spalle la bella Kessley, ungherese, e la bella russa Anna Egorova. Dopo questo oro della brava Simona Quadarella, negli 800 metri, stile libero, arriva il terzo posto, quindi la medaglia di bronzo per l'era di Liddo, nei 100 metri, stile farfalla, agli europei di moto proprio di Glasgow. L'Azzurra chiude la gara con un tempo di 57.58, l'orglavo va alla svedese Sara Seostroheim con 56.13, il secondo posto per la russa svetlana Kimrova, e quarta posizione per Ilaia Bianchi-Azzurra. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Complimenti alla bravissima Simona Quadarella per questo primo posto raggiunto di 800 metri, si è libero di nuoto al Torcross International Swimming Center di Glasgow, nel Regno Unito. Grazie, un saluto e scusate per le precisioni che eventualmente potrei aver detto, un salutone e al prossimo video.